musica 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 allora prossima volta arrivederci allora ciao mazzaguri da per i tuoi 46 anni pure da parte raffaele di qualcosa raffaele ciao rimane da parte raffaele veniamo pure a concetto a parte raffaele ti ringrazio per per l'afografo che mi hai fatto che tutto qua da 2 luglio alla mondiale se ci ricordiamo bene in quel vecchio video che raffaele non era venuto in quel giorno che l'avete visto vedo a concetto comunque spero di vederti di nuovo che possiamo parlare ma sembra difficile questa volta viene raffaele questa volta ti manda anche gli auguri a affonso se ti ricordi bene un nostro amico ti fa anche gli auguri da parte sua non è potuto venire per i suoi impegni per tutte queste cose comunque è vero di rivederti di nuovo e ci vediamo al concerto ciao 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 io mi posso fidare di me non tantissimo quello di più ma sempre un po' di più grazie Marzia per aver fatto gli auguri per i miei 18 anni grazie mille sei sempre un mio mito grazie mille grazie mille